Ciao ragazzi, nuova recensione e finalmente benvenuti a quella dedicata a Guido Martina nella Topolino Writers Edition l'edizione dedicata a questo grandissimo autore di cui erano mesi, anni che aspettavo un volume a lui dedicato guardiamolo meglio insieme ovviamente Ed eccolo finalmente, appena l'ho comprato, che sono già in ritardo perché uscì quasi un mese fa lo resti subito, nel giro di due giorni me lo sono letto, sono state storie abbastanza lunghe devo dire qualcuno, ho avuto un po' di difficoltà in termini di lunghezza ma sono ben 280 pagine di storie e sono contento, di Martina ho letto veramente poco, tralacando l'Inferno di Topolino che è conosciutissimo che qui per fortuna non c'è perché in tutte le salse e in tanti formati è già presente storie veramente bellissime, già ve lo spoilerò, ma che sono solamente una piccolissima parte di quelle che lui realizzò ovviamente Martina è uno scrittore, non è disegnatore, ma è affiancato da disegnatori come Scarpa, Bottaro, Carpi, Perego e Maria Peirano insomma, delle disegnatrici o disegnatori che siano veramente di spessore, di calibro ed è la professione di Alex Bertani che ve la risparmio ma che in pratica dà un augurio di buona lettura perché Martina penso sia uno dei primissimi scrittori, anzi può esserlo benissimo di Topolino in Italia infatti poi vedremo anche il redazionale finale che cita i suoi inizi, i suoi esordi Paperino 3D è la storia iniziale, una delle prime ma non assolutamente la prima perché poi vedremo appunto alla fine vi dirò, comunque guardate qui la data Topolino numero 97 del 54, una storia in cui Paperino, anzi Zio Paperone vorrebbe creare un po' di innovazione immaginate nel 54, questo per dirvi, ovvero che Zio Paperone, quindi la mente di Guido Martina voleva fare in modo che esistessero le televisioni 3D, cosa vuol dire? che in modo da poter essere interattivo con l'utente, io che guardavo la tv mi aspettavo che la persona che vedevo in tv entrasse nella mia stanza e questa cosa è geniale, immaginatelo tutto rapportato a 70 anni fa anche di più e quindi è particolarissimo il modo in cui è stato realizzato perché ovviamente è proprio una televisione tridimensionale grazie a questo scienziato Paperino entra letteralmente nelle case altrui solo che ovviamente non poteva non essere una storia fatta e finita in questo modo ci deve essere sempre un plot twist, un colpo di scena perché in effetti dal film realizzato fuoriescono dalla televisione non solo Paperino ma anche una serie di alieni, di soldatini che invaderanno la città la storia è divisa in due parti ma non voglio assolutamente farvi spoiler anzi tre parti forse mi pare sì, addirittura tre puntate non voglio farvi spoiler perché è una storia veramente bella, originale soprattutto per il periodo e interessantissima che vi consiglio di leggere Paperino e la spina di Gio Paperone Paperino ha bisogno di soldi, siamo nel 56 quindi Paperino già da sempre che è povero purtroppo ah, questa è una storia pagine bianche e nero, pagina colori pagina bianche e nero, pagina colori, avete capito il mood una storia in cui Paperino ha bisogno di soldi quindi cosa va a fare? Cerca lavoro e trova lavoro subito perché è un lavoro di quelli che nessuno vorrebbe ovvero entrare nelle case altrui, nelle ville altrui e chiedere le tasse, riscuotere i pignoramenti o comunque chiedere a volte anche in maniera un pochino frettolosa i soldi di certe tasse non pagate in passato e da chi dovrà andare dopo qualche lavoro proprio da Gio Paperone quindi immaginate Paperino che chieda a Gio Paperone ehi, devi pagarmi tipo mille dollari di tasse immaginate quindi quanto ciò possa interessare a Gio Paperone che ovviamente lo caccia via ma tutto ciò, insomma il pignoramento che Paperino deve presentare a Gio Paperone è relegato a una vecchia fattoria un vecchio terreno che ha mi pare in Brasile o comunque in America Latina si può essere in Brasile quindi deve semplicemente fare in modo che quel terreno non esista più perché Paperino ci va per appunto vedere il motivo anche di questa dimenticanza di tasse di Gio Paperone la storia prosegue ma non voglio farvi spoiler perché è veramente anch'essa carina, interessante Paperin di Tarascona bellissima, bellissima storia veramente che io non so se è data da una parodia onestamente non ne ho idea stiamo nel 57, sempre con Bottaro famosissimo disegnatore genovese, Liguere, dove abito io una storia in cui Gio Paperone vorrebbe essere più coraggioso vorrebbe fare in modo che a volte il coraggio non gli manchi insomma quindi su chi testare un'eventuale pillola che Archimede crea ovviamente su Paperino e sì, Paperino è la persona più timorosa più rancorosa che più ha paura più meschina che lo zio ne conosce e nel momento in cui prende questa pillola Paperino diventa la persona più coraggiosa più tenace, più aggressiva che possa esistere vi spoilerò subito due cose la pillola dura solo dieci giorni e solo di mattina quindi nel pomeriggio finché c'è sereno non vi dico altro perché Gio Paperone ovviamente cercherà di sfruttare questa cosa a suo favore ma poi c'è appunto il risvolto della medaglia sono ben due parti ma vi consiglio assolutamente di leggere perché ovviamente Paperino pensando di essere coraggioso a vita si imbarca in certe avventure più grandi di lui Topolino Kid e Pippo sei colpi penso che questa possa essere la prima storia di Topolino Kid perché questa ambientazione questi personaggi li conosciamo e ogni tanto spuntano nel Topolino anche di quelli recenti ma comunque più in quelli passati ed è una storia veramente formidabile è una storia di due puntate in cui Topolino si aggiudica quello che è un cavallo un cavallo apparentemente difficile da ottenere perché per ottenerlo bisognerà rimanerci in sella lui ce la fa dopo una serie di capovolgimenti e di rotazioni e diventa suo cavallo incontra Pippo sei colpi che è un po' un incontro fortuito perché Pippo anche se senza malizia con paura prova in timore di Topolino ma Topolino è più coraggioso e alla fine diventano amici insomma detto proprio papale papale e l'avventura ruota attorno a loro due e a questo villaggio dove si ritrovano guardate che bello a Wells Fargo direi sia il villaggio non lo so insomma la città bella bellissima tavola mi piace notare questa tavola qua veramente molto bella e non voglio raccontarvi nulla se non per il fatto che c'è anche Di Paperone che in realtà ha un ruolo marginale ma è interessante non voglio veramente raccontarvi altro perché altrimenti vi spoilererei la trama ma è veramente veramente bella mi pare abbia anche queste due puntate e sì bello bello poi comunque al tempo non vi era la paura di mettere una prefazione lunghissima o un termine lunghissimo si metteva e basta alla fine tante parole a volte servono per spiegare meglio anche se si è prolissi si spiega meglio i dettagli dato che io penso che questa seconda puntata non uscì subito nel Topolino in cui c'è anche la prima non viene detto ma non penso bella veramente forse la più bella storia dell'albo per quanto sono tutte bellissime quindi non voglio fare distinzione guardate che belle tavole comunque mi pare sia bottaro i disegni o perego ora vediamo subito perché a me quello che quello che amo è come al tempo nella prima generazione di autori c'erano sia grandissimi disegnatori come Martina ma anche grandissimi disegnatori Carpi Carpi è disegnatore che tavole che tavole pulite che tratto pulito mamma mia oro colato per i miei occhi per i nostri occhi perché onestamente tavole di questo tipo sono meravigliose ma non voglio soffermarmi oltre per evitare appunto spoiler Paperino e i pesci da aprire una storia forse se devo dire quella meno interessante è questa ma siamo comunque su un altissimo livello tanto tempo passa siamo già nel 1980 con perego i disegni forse una delle sue prime disegnate da lui Paperino viene ingannato viene imbrogliato e viene fatto credere che di una storia che vi è un cieco che prende un taxi e poi dopo questo taxi si ritrova a essere ricco quindi la sfida che però in realtà è un imbroglio un pesce d'aprire è far credere a Paperino che se si è ciechi si diventa ricchi in fretta una storia che di base è una trama un pochino stupida però Paperino è un personaggio stupido in questa storia e quindi ci crede non vi dico altro di come va a finire ma c'è anche Paperoga vi dico questo che però in questo caso ha in qualche modo aiutato il povero Paperino Topolino è la mappa misteriosa come vedete abbiamo sia un mix di Paperi che di Topi il che è meraviglioso perché Martina riusciva a passare da Topolino a Paperopoli così senza troppi problemi ancora i bellissimi disegni di Carpi guardate che spettacolo Carpi penso sia uno dei disegnatori preferiti della vecchia generazione comunque di quelli ormai scomparsi ahimè insomma Pippo si ritrova ovviamente sbagliando a dover spaccare casa di Topolino perché pensa che sotto casa sua ci sia un tesoro ma ciò non è perché ve lo dico subito la mappa Pippo la guardata al contrario ma attaccando questo dettaglio Topolino e Pippo vanno quindi alla ricerca di questo tesoro che però si imbarcano anzi in maniera sott'acqua si ritrovano in questa zona qui in questa grotta insomma alla fine c'è pure Gamba di Legno quindi in qualche modo con un frattentimento con un altro riescono anche a liberare purtroppo Gamba di Legno non voglio dirvi altro perché poi la storia prosegue anche se per poco e voglio farvela leggere autonomamente Topolino è il pozzo di San Patrizio un'altra storia in cui Pippo coinvolge Topolino perché Topolino dice appunto a Pippo che nella Bagdad antica quindi si va in Iraq o in Iran oddio scusatemi l'Apsus geografico penso sia Iraq ma si ci ritrova lì perché insomma per spirito di avventura per andare a cercare quello che un famoso archeologo il professor Berzelius che si è perso lì e da un bel po' non si hanno più le sue notizie non voglio dirvi altro perché è una storia carina è un'avventura che ormai di questi tempi non si vede più tra Topolino e Pippo ma è quel tipo di avventura che a me piace Topolino e Pippo è una coppia che funziona in questo tipo di avventure avventure in cui c'è un po' di mistero perché Topolino sa fare benissimo quella parte lì e quindi non voglio dirvi altro godetevi l'avventura ultima storia ma non per importanza dei disegni di Perego e Perano Topolino eredità dei Bis 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 può essere che questa sia la prima storia che dà inizio all'era dei Bis 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 di Pippo insomma la saga dei Bis 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 insomma degli antenati degli avi di Pippo che io vorrei un volume penso che esista in realtà dedicato agli antenati di Pippo ma non lo trovo al momento insomma Pippo fa riferimento a un talismano secondo un vecchio testamento del Pippus Fantasius Grafumanus un suo antenato ma questo talismano in realtà sembra un accendino e questo accendino li catapulta magicamente nell'ambiente di Pocahontas un altro capolavoro Disney che comunque è un bel omaggio anche un bel crossover a Pocahontas non vi voglio dire altro perché è una bellissima storia poi qui alla fine vi è il commento all'estrata di Guido Martino scritto da Carlo Candy Carlo Candy ha avuto la possibilità enorme di poterlo conoscere voglio farvi vedere solo delle piccole chicche non voglio leggervi tutto ma potete anche mettere stop e leggerlo per esempio ho fatto che la prima pagina della prima storia scritta la Guido Martino per Topolino non riguarda neanche il Topolino che siamo abituati ma il giornale Topolino è il cobra bianco fu la prima storia in assoluto e ora non riesco a capire di che anno sia tenendo conto che Martina nacque nel 1906 posso presupporre che qui siamo negli anni 30-40 dato che poi il primo numero uscì davvero tanti anni dopo nel 49 e poi si parla della Divina Commedia dell'Inferno di Topolino che per me io penso sia la storia più bella in assoluta di Topolino c'è poco da fare io non conosco storia più bella tra l'Inferno di Topolino ha la particolarità che dopo 50-70 anni sia una storia così attuale ancora bellissima e niente cosa dirvi questo volume va preso va comprato anche se non siete amanti della saga Writer's Edition va assolutamente comprato perché è un pezzo di storia come lo è stato quello dedicato a pezzin no oddio chi fu quello giallo dove andavano a vedere e si ricordavo bene quindi come fu questo volume questo qua di Guido Martina veramente dà un balzo nel tempo al passato di chi purtroppo come me per ovvi motivi non ha avuto modo di leggere nulla di Martina a parte l'Inferno e a parte qualche storia sporadica nell'estate questo è un piccolo perché è piccolo Martina pensa che abbia fatto una roba come 500 storie e qua non ha la pena una decina quindi di sicuro c'è molto poco però è un attore formidabile che mi piacerebbe avere una sua omnia anche se penso che non uscirà mai perché sì sembra tanto materiale ma poi magari non è che ai lettori posta così tanto piacere però devo dire che meraviglioso adesso il prossimo numero sarà quello di Cazzo Salvagnini che è un autore un pochino più contemporaneo di Martina più moderno ma vi devo dire che tra tutti i numeri dei autori dei grandi autori quindi a partire da le storie noir le storie gold platinum le flash le extra le color edition e appunto le writers questo è il volume che più merita i suoi 8 euro tanto la copertina soft touch la copertina ritrae un due paperone in paperini di Tarascona quindi una storia qui presente di Bottaro bellissimo consigliatissimo io rimango dell'idea che questa sia una dei chiamiamoli non dico battela pesca ma una delle delle testate secondarie più belle in assoluto insieme ai grandi classici disney e a pochissimo altro che attualmente prendono il mondo disney appare topolino ovviamente ragazzi io vi saluto io vi ringrazio per la visione compratelo perché merita merita un sacco e cultura questo volume qua ci vediamo fra un paio di mesi col prossimo volume e nel frattempo con altre belle recensioni su questo fantastico mondo ciao ragazzi grazie alla prossima